bene raga bentorni di play in questo nuovo video oggi siamo in un nuovo video di fortnite sono riuscito a completare la settimana ora vabbè sì la settimana 9 sono riuscito a completarla in poco tempo perché di solito ci sono tre giorni oggi ci sono stato 3-4 ore mettiamo pronto balliamo a raga è questa qui alla schermata di caricamento che adesso mi metto penso che alla schermata di caricamento si trova nel pre nei pressi di del ponte tra condotti confusi e borgo bislacco mettiamoci ok allora si trova qua o qua ovviamente per ora non vediamo il muro però comunque sta la anche se sta in quel pezzo di mappa c'è di terra non mi va qua dovrebbe essere qua vicino un po di legno e vabbè mi fotti la legna ok ok quindi qua ci abbiamo il standard quindi qui c'è lo standard segreto che è una runa quindi questa qui è una runa no dai dai la dovevo prendere ancora lasciami stare quindi cosa che la runa quindi metto così a fare la miniatura ok quindi prendiamola e schiere ok raga prima che finiva il video vi volevo dire una piccola cosa che se voi finite la settimana 9 e prendete tutte le stelle segrete barra standardi potete sbloccare pure questa schermata di caricamento che sarebbe quella della 10 dove si vede bombarola lucente che tocca il cube si vede la sua parte cattiva e si pensa che nella settimana 6 lei sia cattiva e distrugga il mondo di fortnite comunque raga vi volevo dire solo questa cosa questa parte la storia ci sarà il giorno dopo quindi raga se il video è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un like condividete e noi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao